Incidente stradale in via Due Fontane, a breve distanza da San Cataldo, una donna alla guida di una Matis, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo contro un palo dell'illuminazione pubblica. Notevoli i danni riportati dal mezzo, come si può notare dalle immagini. Il palo è stato centrato in pieno dall'automobilista, rimasta illesa dopo l'urto di una certa entità. Per lei solo tanta paura. Sul posto sono giunti prontamente gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi di rito per chiarire la dinamica del sinistro. Già nei giorni scorsi si era verificato un altro incidente con un'auto finita sul guardrail nella strada in questione, il limite di velocità è di 60 chilometri orari.